Abbiamo con noi Don Antonio Tarzia, prete Paolino, calabrese d'origine, basato da tanti anni in Lombardia, Milano, a Cinisello Balsamo per le sue attività editoriali e culturali e in particolare nei giorni scorsi ha ricevuto una medaglia d'oro dall'Ordine dei giornalisti della Lombardia per i suoi 50 anni di giornalismo. Allora chiediamo a Don Antonio, come ti sei trovato ad essere prete Paolino e giornalista? Com'è un po' la tua vicenda che ti ha portato a vivere così lunghi anni di giornalismo ed essere dentro nell'editoria? Dobbiamo ritornare a 80 anni fa, insomma 70 più anni fa, io ero un bambino di 12 anni dovevo andare in seminario a Squillace perché papà faceva l'organista in chiesa, faceva segrestano, però era anche Postino e venne che Squillace non mi hanno accettato perché hanno detto che c'erano dei lavori in corso e quindi alcuni ragazzi dovevano spostarsi di un anno e invece io quell'anno ho aiutato papà, quindi ero già nelle lettere, nel senso che portavo le lettere, facevo d'aiuto Postino, quindi è venuto un sacerdote di Squillace e ho detto mio padre che lui è un fratello dei Paolini ad Alba, anzi a Roma ce l'aveva e dice lì si stava bene dai Paolini, mandalo qui, costa anche meno del seminario, quindi papà mi ha mandato dai Paolini, mi ha accompagnato ad Alba uno del mio paese che andava in Svizzera a lavorare e mi ha lasciato lì davanti. E quindi si sei ritrovato ad Alba? E quindi mi sono trovato nei Paolini dove l'Apostolato era soprattutto stampa, si parlava anche di cinema, ma di altre cose, però la stampa era quella che era soprattutto principale e lì c'era la famiglia cristiana che allora galoppava, andava su 500, 600, 700 mila copie, bei tempi quelli e io sono subito andato a lavorare nello stabilimento di famiglia cristiana, da bambino piccolo, la prima cosa che facevo è mettevo le copertine alle copie che poi venivano cucite, imballate, spedite eccetera, tutti i ragazzini eravamo lì, allora in prima media eravamo una settantina ad Alba, è cominciato così a essere travolto dai giornali, facciavamo i giornali, costruivamo i giornali da piccoli. E come hai iniziato a scrivere, a esercitare un po'... Poi ho iniziato a esercitare, ma che già quando ero, io lì ho cominciato con la prima media, è chiaro che nel mio paese non c'erano le medie, ma quando stavo per finire le medie e andare al liceo io ho già fondato un giornalino con i miei compagni, abbiamo fatto un giornalino che si chiamava Noi, un giornalino così lo facciamo, però lo scrivevamo, lo battevamo tutto a macchina, lo impaginavamo, ci divertivamo così a fare un giornale nostro, poche pagine. Poi invece al liceo ne ho fatto un altro giornale che si chiamava Sempre Noi e poi ho fatto un terzo giornale in teologia che si chiamava Noi, 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 il titolo Noi è poi stato preso da un gruppo di notai a Roma, se ne sono fatti loro, noi abbiamo fatto solo alcuni numeri, però qui a Roma lo facevamo già serio i giornali, cioè lo componevamo in tipografia e lo stampavamo a colori, lo facciamo 100 copie per volta, quindi questo è stato un mio essere già da studente, insomma avevo voglia di fare i giornali, poi ho cominciato a fare dei libri, il primo libro era Poesia sulla mamma ed eravamo ancora in prima teologia, non abbia fatto questo libro per le mamme. Quindi è qualcosa che tu avevi già dentro che hai potuto esprimere. La fondazione dell'Aberione e questo apostolato che lui diceva l'ho visto come una cosa mia, mi sono sentito a casa mia lì, quando poi papà in qualche modo è intervenuto dicendo ma sai se viene qui può fare il liceo, può fare questo, può fare quello, una volta mi ho detto che aveva parlato con il vescovo di Squillacci che diceva che si andava giù e mi dava tre parrocchie, perché c'erano parecchie parrocchie vuote e io ho detto guarda io la mia parrocchia ce l'ho, l'Aberione c'è che è la nostra parrocchia e il mondo quindi è così grande che non posso cedere il mondo per tre parrocchie. Quindi ti sei trovato giornalista e prete? Mi sono trovato giornalista e prete, prete era un fatto spirituale che andava avanti per conto suo, però come professione come cosa mi sono trovato così, quindi a scuola andavo benissimo soprattutto in italiano e insomma quando c'erano da fare i compiti in classi temi, io ne facevo due o tre scambiavamo tramite. Quindi hai la facilità di scrivere, la facilità di elaborare. Il mio fratello adesso è defunto che eravamo molto amici, un caro fratello che poi da adulto era diventato, quando io ero direttore generale del gruppo libri, lui era diventato mio amministratore delegato per dire e lui mi faceva i compiti di matematica, di algebra, io non me la cavavo in algebra, non ricordavo neanche il numero di telefono di casa. Tu sei sempre stato uomo di lettere, però volevo proprio approfondire questo aspetto che è un po' tipico della vocazione paulina, dell'essere paulino, mettere insieme l'editoria, il giornalismo con l'essere religioso prete, che cosa puoi spiegare di questa realtà che si unisce? Ti dirò, nell'ultimo giornale quello fatto da adulti, eravamo teologi e dovevamo prendere messa da un anno all'altro, mi ricordo che ho fatto un atto teatrale dove c'era mio papà con un altro nome, in una segrestia che spiegava a dei ragazzi chi era l'aberione e l'ho fatto così bene che poi il superiore generale mi ha premiato con dei soldini perché ha premiato delle cose migliori fatte in quel giornale, è stato premiato pure io per questa roba, quindi per me era proprio una cosa essenziale, intima, ma io la vedevo come il mio futuro, mi sono sempre visto giornalista, sono diventato giornalista professionista 50 anni fa, nel 71, ero già a mio agio, ho cominciato a entrare nel giornale, prima sono stato vice direttore del giornalino e intanto mi sono inventato l'enciclopedia dove si io, che la facevamo in tre lingue per il Canada, per la Francia e io dirigevo questa roba andando, spostandomi una oltre a due anni anche in quest'altro ufficio, che è una cosa curiosa è innovativa questa enciclopedia, addirittura comprendeva anche dei rischi, che comprendeva dei poster, cioè una cosa molto mossa e poi si cambiavano i secondo, come tu cambiavi i sedicesimi e li mettevi in un raccoglitore, diventavano enciclopedie diverse. Quindi hai lavorato per la formazione dei ragazzi? Per la formazione dei ragazzi attorno al 71, cioè i primi anni di sacerdote l'ho fatta alla San Paolo Fimi, ai tempi di Pinocchio, io ero lì che aiutavo la San Paolo Fimi, allora ero direttore della San Paolo Fimi, prima andò cordero, poi andò monge e io li aiutavo a fare da braccio destro loro, ero giovane preti, insomma per tre anni sono stato lì al tempo di Pinocchio, ho conosciuto Gina Lobrici, Daman Fredi, Ciccio Franco, insomma siamo diventati amici con questa gente qui, con Gina poi quando sono diventato direttore della San Paolo Fimi abbiamo fatto anche un libro Gli animali e i bambini, questo per dire che poi se le cose si ricorrono, si rivedono, si ritrovano, si ritrovano, e quindi se vuoi parlare di qualche personaggio che ha segnato un po' il tuo percorso come giornalista, come editore, a chi pensi soprattutto? Come giornalista posso pensare senza altro ai miei amici, sono diventati tutti amici poi, tutti questi qui, che erano grandi fumettisti da allora, poi sono diventato direttore del giornalino anche e come direttore ho preso i migliori fumettisti che c'erano in Italia, da Iacoviti a De Luca, i migliori avevamo noi, almeno una trentina di autori ho preso più per il giornalino, che hanno fatto storie su storie, poi quando sono dato il libro hanno fatto libri sul libro, perché io ho fatto circa 70-80 volumetti, Vita di Santi, Vita di Eroi, da Genciscania, ha fatto anche la Vita di Giovanni Paolo II che l'abbia fatto in parecchie lingue, persino in cubano, l'abbia diffuso in tutto il mondo e lui era vivente, che è strano che uno faccia la vita a fumetti di un vivente, però Giovanni Paolo II gliel'abbiamo portata, l'ha gradita moltissimo, la sfogliava, ho le foto, io che parlo con lui e lui mi dice fate bene a fare queste cose per i ragazzi, i ragazzi sono la chiesa di domani e quindi se vogliamo un po' mettere dei punti di riferimento… All'inizio diciamo il disegnatore a fumetti, i maestri del fumetto italiano, la tua vicenda iniziale soprattutto nel mondo del fumetto, poi dopo il fumetto sono passato invece ai libri e allora qui sono stati altri autori dei libri, i miei autori preferiti che possono diventare i cavalli di battaglia della San Paolo Libri, il primo anno già ero amico del Cardinale Ratzinger, questo tedesco che era arrivato qui in Italia, che tutti temevano, io per amico ho fatto 14 libri da Cardinale e 5 da Papa e siamo ancora amici adesso, lo dice lui anche l'ha scritto. Quindi Papa Benedetto è tuo amico? Papa Benedetto è il mio amico preferito insomma, il numero uno, poi anche tanti altri artisti, i Cardinali Ravassi, io l'ho incontrato Ravassi che aveva preso messa e da allora l'ho preso per Iesus che io avevo fondato Iesus nel 79 e lui da allora tutti i numeri di Iesus ha sempre scritto un articolo di tre pagine, poi dopo due o tre anni è passato anche su famiglie cristiane e anche lì ogni numero di famiglie cristiane c'è un articolo, sono 35 e più anni che lavora con noi, io l'ho conosciuto che eravamo bambini, appena preti, giovani preti, io ero un po' più anziano di lui, due anni più, tre anni più e poi Bruno Forti per esempio un altro con cui ho fatto una cinquantina di libri vari e tanti altri, un po' qui come libri insomma siamo andati a finire alle collane, io ho inventato una cinquantina di collane nuove, anche strane, una collana che veniva dal giornalismo, quella intervista verità dove ho fatto l'intervista al patriarca di Mosca, Pimen, ho fatto l'intervista a Fidel Castro, ho fatto l'intervista a Ratzinger, il primo numero della collana è di Ratzinger, quella con Messori, con Vittorio Messori che intanto va assunto anche nel mio gruppo, quindi i personaggi sono tanti, sono personaggi che hanno fatto la storia, questo è bello perché io non ho mai assunto, ho voluto con me una persona che io giudicassi meno in gamba di me, così l'ho avuto per principio, forse è una malattia, io sono quelle che sono migliori di me, che mi insegnano qualcosa. Quindi i tuoi collaboratori sono persone? E sono rimasti per me tutta la vita, io non ho un collaboratore che sia diventato un amico mio, anche perché li ho sempre lodati e sempre venerati per quello che erano e dato prestigio alle loro virtù, alle loro specifiche qualità. Quindi 50 anni di giornalismo, 50 anni di attività editoriale. 50 anni di attività editoriale con questa gente, poi ho fatto, non so, per esempio io ho sfondato all'estero con le fiere dell'estero e sono arrivato al punto che partecipavo a 15 fiere internazionali, per cui andavo dall'Argentina a Canada, agli Stati Uniti, a Mosca, in Polonia, a tutte le fiere del libro andavo e qui portavo i miei libri che moltiplicavo, perché alcuni libri, non so, il libro di Chiara Lubic per dire, l'abbiamo stampato in 30 lingue diverse, un libro di Ratzinger, la mia vita, l'abbiamo stampato in 48 lingue diverse, cioè questo portare nel mondo i libri italiani e farli valorizzare, per me era una grossa soddisfazione, una grossa realtà, arrivavamo noi a volte a stampare, a vendere 100-200 contratti all'anno. Quindi una serie di contatti, una serie di relazioni in tutto il mondo intero. anche con alcuni abbiamo fatto poi opere insieme, con i tedeschi, con i francesi, con gli americi del sud, con tanti, il libro lo facevamo in due lingue contemporaneamente, alcune volte anche 4-5, mi ricordo abbiamo fatto un libro per i giovani, per il Giubileo, in occasione del Giubileo, io ho già fatto per il Giubileo la famosa Bibbia del Giubileo che era un monumento, 9 kg di Bibbia con carta pergaminata e con mille miniature dentro, una cosa terribile. Abbiamo venduto 75 mila copie di quello, è stato un successo mondiale, ma oltre a quello abbiamo fatto un libro per ragazzi assieme a Benetton, pensate, l'ho fatto del formato della tasca dei jeans di Benetton in onore di Benetton e lui mi ha fatto la pubblicità assieme alla sua pubblicità nel mondo e i ragazzi di tutto il mondo mi hanno mandato degli scritti o poetici o disegnati, cose che potessero insegnare ai ragazzi del nuovo secolo la religione, parlare di religione ai ragazzi del nuovo secolo, non della religione cattolica, delle religioni e qui è nato il mio senso anche della moltiplicità delle religioni e del dialogo tra le religioni, Jesus poi è una rivista che è nata multipla, nel senso che in Jesus lavoravano ebrei musulmani, tutti quelli che si riconoscono nella religione di Abramo lavoravano per me e a Jesus, i Paolo del Benedetti, i grandi di queste religioni, scrittori e giornalisti di venirei a lavorare. Quindi vogliamo ricordarlo meglio, tu sei colui che ha iniziato questo progetto di una rivista sul mondo religioso. Io sono fondata nel 79, poi invece nel 2002 ho fondato una rivista per bambini prescolare che si chiama GBA, ci sono ancora queste riviste, non è che… Che cosa ti hanno insegnato i ragazzi nell'ambito della comunicazione e dell'editoria? I ragazzi mi hanno insegnato tanto, per esempio io ho fatto dei concorsi per ragazzi, delle cose bellissime, mi ricordo un anno che abbiamo dato ai ragazzi che scrivevano, il mio papà presentavano il papà, ebbene i migliori li abbiamo premiati, il primo premio era una Fiat, gli abbiamo dato una macchinetta Fiat, erano 500, però c'è un bambino che regala sul papà una macchina perché ha fatto un tema, è una cosa impressionante. Abbiamo ricevuto in quel periodo lì, mi sembra un qualcosa come 2.000-3.000 lettere dei ragazzi per questo premio qui. E poi io su questo premio qui ho fatto anche la mia tesi di laurea, perché prima ho fatto eologia a Laterano, poi ho fatto lettere alla Statale di Milano e qui a Milano ho fatto la lettera, il giornale a scuola. E quindi parte da giornalino fatto per ragazzi, a come i ragazzi buono eseggi il giornale per gli adulti, almeno vederlo, coinvolgersi in qualche modo, costruire sempre ponti, non muri, ponti, apertura generale per tutte le cose, apertura di religione. Quindi una mente aperta, una volontà di incontrare tutti e di raccogliere tutti per crescere. Di questo per me la frase più bella è stata quella dell'aberione, la vostra parrocchia è il mondo, non mi sono mai sentito stretto nel giro di Alba dove avevo studiato, oppure dell'Italia dove vivevo, ma in giro per l'Europa, in giro per l'America Latina, ho stato tante volte in Brasile, a Cuba ho stato sette volte, ma ho stato in Venezuela, ho stato in Messico, ho stato in Canada sette, otto volte, perché ho la rivista giornalino, l'abbiamo fatta a un certo punto, sia l'Enciclopedia Dovizio che la rivista giornalino, l'abbiamo fatta anche in canadese per i ragazzi di Canada, e così l'abbiamo fatta in francese per i ragazzi di Francia, quindi avevo i ragazzi del mondo sotto e cercavo di lavorare per loro. Ma sappiamo che oggi il mondo dell'editoria è cambiato, c'è molto di elettronico, digitale, di reti sociali. Però ti dirò, dalle ultime dati che ho io, il mondo dell'editoria per ragazzi si sta muovendo bene, i ragazzi hanno riscoperto, forse per via della pandemia, che non potevano uscire, non potevano giocare, non potevano fare niente, ma hanno riscoperto sia i libri che le riviste per ragazzi. Quindi c'è spazio ancora per… C'è spazio, sì, c'è spazio, basta avere un po' di fantasia, tanta fantasia e tanta fiducia nei ragazzi, perché sono quelle che un domani faranno la storia, insomma, c'è poco da fare, noi saremo vecchietti ormai, non dico ai margini, ma comunque abbiamo fatto il nostro tempo. Però penso che tu non ti consideri un vecchietto che ha finito di portare avanti le sue cose, allora qual è il consiglio che puoi dare a tutti proprio per mantenere viva la creatività? Che cosa bisogna fare? Noi adulti dobbiamo dialogare con i ragazzi, sprecare che non è sprecare, è costruire qualche ora al giorno con loro, parlando con loro, sentendo loro, ci insegnano tanto i ragazzi, perché loro hanno il buon senso, ma quello semplice, quello genuino, quello proprio sgorgante, sono sorgivi, eccoci. Il fatto di sapere i ragazzi cosa vogliono, cosa credono o in cosa vorranno esercitarsi un domani, è di scuola per noi. Quindi la scuola per andare avanti, per tenere viva la tua creatività e confrontarti con le giovani generazioni. Confrontarsi con loro e non avere mai timore ai ragazzi che non lo conosci, salutalo sempre, lui il ragazzo ti sorriderà anche se tu lo saluti, perché vede l'adulto che lo saluta e lui gli sorride. Io non ricordo nessun ragazzo che mi abbia trattato male solo perché io lo salutavo, io ho sempre salutato tutti i ragazzi che incontro e quando posso poi anche gli regalo qualche libro per i ragazzi, qualche rivista, qualcosa, cerchi di fartelo amico così com'è e poi magari c'è anche un seguito. Alcuni di questi ragazzi sono venuti anche a lavorare con me quando ero giornalino, altri sono venuti a lavorare quando ero ai libri, ho sempre avuto della gente che incontri oggi e la ritrovi domani, se tu la tratti bene resti in rapporto. Quindi possiamo definirti giornalista e prete dell'incontro, sempre pronto a stare vicino agli altri. Sempre per l'incontro e comunque sia, per me non c'entra, non c'è diversi, il maggiore dei diversi è Dio, è così diverso da noi che non riusciamo neanche a spiegarlo e quindi questo è per uno che ha un occhio diverso, un colore diverso, dei pelli o i capelli diversi, bisogna che mettiamo un muro di divisione, ma buttiamoci, abbracciamoci, adesso che si può almeno dopo la pandemia, ribbracciamoci, almeno sorridiamoci, eccoci quando abbiamo la possibilità di non avere la mascherina che ci fanno tutti i banditi, leviamo la mascherina e diamo un sorriso agli altri e ci ripagheranno gli altri con un sorriso, quanto sarà una civiltà del sorriso, avremo una civiltà migliore. Ecco allora ti sentiamo sempre pieno di carica, di voglia di fare, voglia di creare, di creatività e sappiamo che hai i progetti in corso, quali dei tuoi progetti vuoi segnalare che ti interessano Io da quando sono andato in pensione ho accelerato quello che era il mio hobby, eccoci, io appena presso messo ho scoperto per caso un personaggio calabrese di cui non si parlava più, che era Cassiodoro e ho cominciato a studiare lui, a leggere i vari libri, adesso mi trovo che dirigo, sono direttore, presidente, un'associazione che si chiama Centro Culturale Cassiodoro e un'altra che si chiama Cassiodoro è grande, da cui c'è anche un premio internazionale che abbiamo già dato 54 premi internazionali, questa roba qui, su questo personaggio che era un personaggio che assomigliava a mia donna Beriona, fondatore della mia congregazione, perché Cassiodoro lui adora il libro, fa del libro quasi un sacramento e lui dice noi ai posteri possiamo portare i valori che abbiamo ereditato dagli altri, dai nostri grandi poeti o scrittori o padri della chiesa o addirittura i valori eccezionali che è la Bibbia, questa lettera scritta da padre ai suoi figli e dobbiamo trasmetterlo agli altri, questo è il nostro compito, trasmettere la cultura, trasmettere i valori che significa che ognuno possa sulle nostre parole trovare la sua umanità che c'è dentro e farle sviluppare, farle risorgere e crescere questa umanità che è un albero bellissimo, l'umanità di ciascuno che allarghi le fronte sugli altri e quindi si incrociano i rami e quindi si diventa umanità generale e questi principi Cassiodoro li mette in pratica, lui fonda due monasteri dopo i 70 anni, fonda due monasteri che diventano celebri da 1400 anni fa, lui è del VI secolo, questi monasteri sono ancora monasteri simbolo per tutta la vita religiosa e per tutti i convegni. Quindi adesso tu stai impegnando la tua vita e la tua creatività per far conoscere Cassiodoro. Questo premio che diamo, l'anno scorso avevo vendato in Santa Maria in Trastevere, quest'anno lo daremo invece a Ravenna dove ci sono i mosaici che lui ha salvato, perché Cassiodoro al primo dei 70 anni era un politico, era il rettore del pretorio di Ravenna, era anche senatore a Roma, era ambasciatore con i papi a Costantinopoli, era un uomo così, un uomo come piacciono a me come vorrei essere io, cioè un uomo del mondo, un uomo per tutte le stagioni, ma un uomo anche per tutti i compiti, che non vede i limiti, dico io questo non lo posso fare, io tento e spesso ti va bene, tu tenti di fare il possibile, nelle cose anche impossibili e vedere che qualche possibilità la ritrovi. Sentiamo veramente in te questa voglia di portare avanti un personaggio, ma non per il personaggio in sé, ma per quello che questo personaggio ha fatto, Cassiodoro ha testimoniato e noi diciamo anche Don Antonio Tarzia, testimonia con la sua vita, con il suo impegno da Paolino, da editore e da giornalista, grazie Don Antonio. Grazie a voi, grazie agli ascoltatori.